L'ambiente urbano sta diventando un rifugio sempre più sicuro per gli animali selvatici. Nei giorni scorsi agli uffici del servizio tutela fauna e flora della provincia di Torino è giunta la segnalazione di un non meglio precisato furetto che si aggirava sui balconi del piano terra di un palazzo di corso peschiera. Gli agenti faunistico-ambientali della provincia sono intervenuti sul posto e hanno subito verificato che l'animale non era un furetto ma bensì un citello, un roditore che è in libera vendita presso i negozi specializzati. È uno scoiattolo terricolo diffuso nei paesi dell'Europa centro-orientale di aspetto molto simile al cane della prateria che vive in America. È invece un animale molto diffuso alle nostre latitudini, l'anatra muta. Da oltre un mese nei cortili degli stabili di Via Genova 51 a Torino ne stazionava una recuperata dagli agenti del servizio tutela fauna e flora della provincia. Proveniva probabilmente dal vicino fiume Po, avendo trovato una buona accoglienza da parte di alcuni condomini che lo alimentavano, non era più tornato sul fiume. Gli agenti sono però dovuti intervenire a seguito delle lamentele di altri condomini, i quali evidentemente non gradivano la presenza dell'anatra. Dopo aver catturato il volatile lo hanno liberato nel laghetto piccolo del parco della Pellerina.